Musica Buongiorno ce l'ho fatta non ho iniziato questo video con Allora quindi sto facendo progressi questo video tratterà del tag cosa c'è nella mia borsa da mamma e alcuni di voi insomma erano curiose e quindi io vi accontento non ho preparato prima la borsa quindi non so cosa ci sia dentro penso che poi questi tag debbano un po' essere live cercherò di essere molto concreta anche perché una ragazza mi ha sgridato e mi ha detto sto al quinto minuto e tu ancora non hai detto nulla hai ragione, mi spiego cosa sto facendo ora allora questa è la borsa intanto che mi hanno regalato le mie amiche quando ho partorito della Kikko è abbastanza caviente e sporca anche come vedete non so dove dove ho strusciato allora iniziamo intanto qui troviamo l'incirata l'incirata appunto serve quando siamo oddio un centro commerciale e e dobbiamo posare il bimbo dove tutti tutti i culi degli altri bimbi si sono posati ah intanto vorrei dire scusate per il look un po' barboneggiante c'ho pure i garzini di fluo non so che vedete quelli che c'è da pacconi orribili sono dei colori disastrosi comunque allora poi quindi la l'incirata stava qui in questa tacca e ora apriamo apriamo è già aperta cosa c'è qui dentro allora innanzitutto c'è questo sacchettino di che ho preso la prenatal così un po' chiude così e qui diciamo che c'è tutto quello che serve per lavarla innanzitutto i pannolini questi sono della marca del Todis io uso io prendo i pannolini dalle offerte quindi nei centri commerciali soprattutto Carrefour sono molto convienti perché proprio ci sono i cartoni sia di salviette che di di pannolini in genere si trovano Pampers e Agis io insomma non c'erano offerte non c'erano offerte in atto e quindi ho preso questi qui ma poi quando sono andata a fare il vlog con Cristina appunto abbiamo preso abbiamo preso i pacconi e allora questi del Todis costano sui 3,99€ come quelli della Chicco io mi sono trovata mi sono trovata bene anche perché sono fortunata perché invece non ha un problema non ha un problema di irritazione quindi qualsiasi cosa gli metto anche la carta vetrata a lei non viene nulla e quindi posso comunque risparmiare magari un pochino quando un Pampers mi viene sui sui quanto costa un Pampers mi sembra 10€ non fa no forse un po' di meno comunque sugli 8€ 9€ e ok e quindi questo è i pannolini poi uso la Fissan cioè si uso la Fissan uso il sapone questo è il sapone per il culetto e su questo per esempio non risparmio perché non non mi fido tanto dei saponi di quello che comunque gli posso strusciare sulla pelle e le salviette e le salviette invece queste sono di risparmio casa quindi insomma sono abbastanza buone poi io in genere uso i Pampers sempre quello che trovo come offerta calcolando che io però i discount non li ho mai comprati quindi non lo so come sono poi i fazzoletti dei fazzoletti eh un nuovo fazzoletti che è pacco più fazzoletti e nel caso io mi smottoro qualcosa per il caso questa alla fine serve pure un po' a me poi c'è l'igiene nasale due cose di fisiologica io la usavo perché c'era un occhietto un po' un po' sporco per un condotto che poi comunque era un condotto che non era collegato bene al nasino e quindi c'era una secrezione di sostanza e massaggiando poi con un tobral una pomada insomma tutto a posto e quindi noi li puliamo sempre questi occhietti poi c'è la crema anche per la crema come il sapone sempre vado su baby gel fissan così e quindi questo è quanto poi ci sono gli asciugamani io ho questo qui ho comprato al mercato sapete in quei mercati dove c'è tutto 1 euro 2 euro 3 euro io mi trovo benissimo perché poi li lavo quindi questa era perfetta era carina e l'ho preso ho due ovviamente due di un colore orribile peraltro due asciugamani e perché ora vedrete che io ho molti doppioni in questa borsa e dopo vi spiego il perché poi c'è questa borsa trasparente e ci sono tutti i cambietti quindi visto che comunque lì ci sta mettendo i dentini sta sbavando da morire c'è bava dappertutto sul computer sul di noi e quindi quando lei si sbava ovviamente si bagna il bavaglino la tutina e il body sotto e quindi ci serve un cambio completo ho preso questa ho preso questa tutina io metto nei cambi delle cose che non uso giornalmente quindi delle cose che magari mi piacciono poco perché tanto è il cambio raccolgo la busta il body da carcerata è busta però l'ICTEM questo qui che è molto comodo per le neomamme o le future perché io preferisco questi che si si aprono tipo così a croce perché i bambini comunque si incazzano da morire quando tu gli infili una maglietta o un body mia figlia si incazza da morire quando io gli metto le maniche cioè lei sembra che la stiamo sgozzando fin da piccola fin da appena nata poi dei residui di coppietta assorbilatto che io non uso più perché non ha lato più l'ho avuto pure l'avuto poi questo maglioncino nel caso sente freddo sto in giro oppure se bagna sempre e occhio questi sono dei guantini di quando in teoria l'ospedale ti dice porta i guantini perché si graffiano io non li ho mai messi però penso che li potrei usare quando fa freddo sono un po' leggeri e poi i calzini calzini ma come io si calzini perché si sporcano i calzini non si sporcano i calzini però vabbè noi ce l'abbiamo ora rimetto tutto nella bustina allora vi spiego perché ho le cose doppie a parte che non ho finito infatti qui vediamo che ci sono due bavallini vi racconto la storia dei bavallini fin da quando comunque è natalice io ho problemi seri fin da quando è natalice ho avuto problemi seri con i bavallini perché allora calcolando che io sono della vergine io non credo molto allo giodiaco e segni però le vergini dicono che sono molto precise io sono precisa per le cose che mi pare perché quando ho l'attao e comunque tuttora io devo avere minimo minimo due bavallini in camera allora scusate ma come vedete ho dovuto cambiare apparecchio di registrazione perché stavo registrando e la macchinetta si è spenta perché la memoria era insufficiente molto bene molto bene allora stavo parlando dei bavallini praticamente io ho un problema serio con i bavallini perché come vi dicevo mi sono stoppata a ho tre bavallini così mi sono stoppato quindi allora io devo avere bavallini dappertutto in salotto in cucina salotto e cucina uguale in salotto in camera da letto in bagno perché perché anche se io ho il bavallino praticamente in faccia tipo della serie ora giustamente lo vedete non trovo un bavallino io si mando un paio perché qui ci dovrebbe essere un bavallino nel divano non c'è vabbè comunque niente lo vedete ecco salì salì sul tavolo grazie allora ecco vedete che a parte che ecco vedete io devo avere tutti un bavallino due bavallini questi non erano quei da borsa stavano qui sul divano cioè allora anche se io ho il bavallino tipo così in faccia io non lo trovo non lo trovo mai e e mi viene il panico perché magari lei o sbava o c'è un po' di latte e quindi ho scelto tutti i bavallini a portata di mano devo essere inondata da bavallini e quindi comunque devo avere sempre sempre tanti 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 bavallini allora come sempre comunque vi ringrazio perché ogni giorno siete molti a iscrivervi sempre complimenti siete molto molto carine e accetto tutte le critiche del mondo purché siano comunque giuste e fondate e quindi grazie a voi comunque cerco sempre un po' di migliorarmi quindi niente il prossimo video sicuramente vi farò vedere la mia di borsa io cerco sempre di fare i video molto molto semplici molto live quindi io prendo la borsa e dalla taccapani e la apro insieme a voi quindi io non levo niente se c'è la sporcizia dentro troveremo troveremo la sporcizia e quindi niente al prossimo video un bacione grande quindi